Ciao carissimi, si parla molto dell'ultimo caso dell'oppositore cosiddetto russo Karamursa che è stato imprigionato, l'hanno dato 25 anni, è stato condannato in Russia, molti ovviamente in occidente si esprimono in maniera negativa, intanto ieri molti non hanno saputo neanche chi è questo Karamursa e oggi a spada tratta mi capita di vedere come lo difendono, questo è un tipico comportamento di molti occidentali, senza sapere niente, senza capire e comprendere il senso della situazione, subito buttarsi nel sostegno di qualche causa solo perché il mainstream hanno riportato questa causa, hanno rappresentato in un certo modo, quindi molti subito si esprimano, io anche leggo certi commenti e capisco che le persone, a prescindere dal fatto giusto, sbagliato, perché umanemente si può capire che le persone si sentono scandalizzati per il fatto che qualcuno viene imprigionato per aver condiviso, non lo so, la propria opinione ad esempio, tanto tanta gente non sa neanche perché è stato condannato questo signore, comunque io posso comprendere che qua in occidente dove c'è il mito della libertà, ovviamente la libertà vera e propria qua non c'è, quindi quando qualcuno da noi in occidente dice che qua c'è bella libertà, democrazia, che possiamo dire tutto, semplicemente prende in giro le masse. Andate a raccontare ad Assange o a Snowden che cos'è la libertà, uno ormai ha la vita rovinata, vive in prigionia senza neanche aver avuto un vero e proprio processo legale, l'altro invece è stato costretto a rifugiarsi addirittura in Russia pur di evitare di essere processato come spie e probabilmente anche sarebbe stato ucciso Snowden nelle Stati Unici d'America, perché nelle Stati Unici d'America vi ricordo che in differenza dalla Russia ed altri paesi c'è la pena di morte, quindi per un crimine che secondo gli americani Snowden ha commesso, ovvero raccontando a tutto il mondo come Stati Unici d'America ci spiano e come loro sfruttano le nostre informazioni della nostra privacy per manipolarci, lui rischiava veramente di morire, quindi quando qualcuno qua in Occidente blatera della fantomatica libertà io gli dico guardate Assange, guardate Snowden e poi mi parlate della libertà, poi se vogliamo possiamo approfondire i nomi di tanti altri giornalisti che o vivono le situazioni complicate oppure sono stati uccisi qua in Occidente proprio perché condividevano certe informazioni, cercavano certe verità che non erano sicuramente a genio ai grandi potenti, agli oligarchi, soprattutto anglosassoni che nell'Occidente governano. Anche io stesso nel mio piccolo adesso sto affrontando un processo penale perché all'epoca avevo semplicemente attirato l'attenzione del pubblico al fatto che la nostra rappresentante, il nostro politico dell'epoca Laura Boldrini aveva invitato in Italia un nazista e addirittura ha detto di essere in sintonia con lui. La gran parte degli italiani ovviamente non ha capito neanche che cosa è successo quando qua è arrivato il capo del partito nazionalsocialista dell'Ucraina Andri Parubi, tutti pensavano che si tratta di un premier ucraino e basta, in realtà si tratta del fatto che la nostra politica italiana ha dato il credito a un nazista e tutti hanno ingoiato questa cosa qua in Italia. Io ero stato uno dei pochi che ha cercato di attirare l'attenzione delle masse a questa vergognosa situazione e adesso per questo motivo io affronto un processo penale. Quindi questo è per dirvi quanto è lontana dalla libertà la nostra società occidentale, quindi quando noi pontifichiamo, puntiamo il dito contro qualcun altro dicendo eh ma lì c'è poca democrazia, c'è poca libertà, guardiamo prima quello che sta succedendo da noi. Comunque quando noi parliamo di Cara Mursa e quando si sente parlare di questo signore e molti dicono è questo oppositore di Putin, questo è un grande politico che in Russia cercava di arrivare, sarebbe arrivato al potere, è cattivo Putin pur di non evitare di farlo arrivare al potere, lo ha messo in carcere. Ovviamente questa formula è una totale bagianata, un'idiozia, non si può chiamare in un altro modo. Cara Mursa intanto a livello politico è un zero assoluto, un zero assoluto per una serie di motivi. Uno perché non ha mai avuto la capacità e la possibilità di fare una politica reale. In Russia ci sono tantissimi oppositori politici, oppositori al sistema di Putin. Io invito quelli che sono interessati al tema di guardare uno dei miei vecchi video che ho girato forse l'anno scorso, dedicato proprio a questa tematica, agli oppositori politici, dove io ho spiegato con nomi, cognomi, ho fatto un riassunto delle storie di vite delle persone che hanno un potere politico reale in Russia e che fanno le attività politiche contro il sistema di Vladimir Putin. Alcuni di loro sono anche finiti in carcere, per carità. Quindi non voglio dire che si tratta di persone che in maniera totalmente tranquilla e serena fanno gli oppositori. No, ci sono anche lì le situazioni abbastanza complicate, però in differenza da Cara Mursa, da questo personaggio che è stato adesso imprigionato, quelli sono veri oppositori, ovvero coloro che fanno la politica, mentre Cara Mursa era uno strumento di propaganda, uno strumento di propaganda occidentale. Perché? Perché è un signore che dall'inizio della sua carriera professionale è stato avvicinato dagli inglesi a una, intanto ha una cittadinanza inglese questo personaggio, quindi quando noi parliamo di un oppositore politico che in un paese fa la politica, dobbiamo mettere in conto il fatto che in qualsiasi paese, quando si tratta di un paese normale, fosse un paese normale, un politico che vuole cambiare le sorti politiche di un paese, se ha doppia o tripla cittadinanza è sempre un politico sotto sospetto, sospettato. Ovviamente qua in Italia da noi dove la politica ormai ha superato qualsiasi limite di indecenza, noi abbiamo visto e avuto tutto, perché noi veramente qua stiamo soffrendo per l'abuso, l'esubero di cosiddetta democrazia, cioè dove la democrazia si sta uccidendo per l'abuso di se stessa. Noi abbiamo dei politici che hanno la doppia cittadinanza eppure si vantano di questo. Nei paesi sani e normali, paesi che non sono schiavi di nessun altro paese, paesi che non ospitano sul proprio territorio, non sono costretti di ospitare sul proprio territorio l'esercito di qualche altro paese, paese dove la gente nel passato e anche nel presente non è stata perseguitata da rappresentanti di terzi paesi, dei sistemi che vanno al di fuori dei sistemi governativi. In paesi sani un politico o una persona che cerca di mettere in cattiva luce il sistema governativo e ha una cittadinanza di un altro paese ovviamente vengono visti male. Cara Mursa, da sempre, da tutti in Russia veniva visto come una spia inglese, lo dico senza mezzi termini perché è inutile andare attorno alle questioni, è una spia inglese, una persona che ha studiato nelle università inglesi, ha lavorato in tutti i meccanismi di propaganda inglese dove l'hanno insegnato come bisogna fare propaganda, come bisogna creare dei sistemi di informazione sovversivi per destabilizzare all'interno un paese. È stato mandato in Russia, ha creato in Russia una sua realtà ed è stato possibile anche perché soprattutto durante l'epoca di Yeltsin tutti questi meccanismi erano abbastanza diffusi e anche dopo l'epoca di Yeltsin diciamo la Russia rispetto allo stesso occidente è un paese molto più libero nel senso di pluralismo. cioè in Russia ci sono veramente diversi piattaforme gestite anche appunto da sistemi di altri paesi poi qua in occidente ovviamente a noi ci bloccano la tv russa, chiudono i programmi russi qua tra poco cominceranno secondo me anche internare i russi nei campi di concentramento se andrà avanti questa russofobia. Mentre in Russia tutto questo non avviene, in Russia ci sono canali occidentali ci sono i canali che appartengono anche ai mainstream occidentali uno che vuole vedere la BBC o la CNN in Russia la può vedere tranquillamente mentre qua in occidente se io voglio vedere, non lo so, un primo canale o stanchino della Russia se non lo posso vedere perché è oscurato, stesso vale per canali come Sputnik, come Russia 24 e così via sono tutti canali che sono stati oscurati e sono proibiti in occidente questo significa che l'occidente è meno libero della Russia e quindi c'è questo personaggio che svolgeva il suo lavoro di propagandista britannico in Russia cercava di, con tutti i mezzi, i metodi di creare varie operazioni sovversive, operazioni di informazione si è unito a un altro personaggio che una volta faceva politico che si chiamava Boris Nemtsov lui è stato ucciso come ricordate tutti Nemtsov anche in occidente è stato spacciato per uno che era un grande leader dell'opposizione in Russia non aveva alcun peso politico, era una cartuccia sparata l'unica cosa che faceva è prendere i soldi dai tedeschi, dai britannici, dagli americani per fare un po' quello che dà fastidio a Putin hanno cercato di sollevare delle manifestazioni, dei tentativi di fare qualcosa come la rivoluzione arancione non so, come il Maidan a Mosca, non sono riusciti a farlo voi ricordate che quando annunciavano grandi manifestazioni in un luogo che si chiamava Balotneploshaj sembrava che dovesse rovesciare il regime di Putin in questa roba qua poi sono arrivati i quattro gatti, metà di loro erano pagati da varie agenzie straniere ovviamente tutta questa banderuola è stata molto in fretta, chiusa e spedita al mettente i partecipanti dopo un po' di tempo, quando si è capito che non riusciranno a sollevare un vero e proprio Vespaio Polverone, una vera e propria rivoluzione a loro hanno cominciato a cadere le cose strane Navalny è stato avvilenato, non si è capito come, non si è capito dove, non si è capito da chi ovviamente subito hanno dato colpa ai russi, a cattivo Putin e così via e tutto il resto anche di altri oppositori stesso Karamursa ha detto di essere stato avvilenato poi questa storia con avvilenamenti, cari amici, è veramente una specie di modo di fare antipubblicità alla Russia guardate come sono cattivi questi KGB che vogliono avvilenare, che ci vogliono uccidere che ci vogliono far tappare la bocca, noi invece qua stiamo lottando per la libertà in realtà nessuno li voleva, in realtà la gran parte dei russi non li sosteneva e loro erano lì da soli nella loro cerchietta di questi liberali pro inglesi, pro americani quasi tutti pagati, quasi tutti addescati attraverso vari sistemi basati sui materiali compromettenti e altre situazioni che usano di solito le spie statunitensi e inglesi per addescare le persone ad esempio stesso Nemtsov è stato manipolato perché era molto debole per il sesso femminile tradiva sistematicamente la propria moglie anche con le ragazzine molto giovani in effetti anche la sua morte a quanto pare è dovuta non al fatto che cattivo Putin ha voluto improvvisamente ammazzare questo qua che non significava niente non rappresentava nessun pericolo per Putin ma a quanto pare è andato a letto con la moglie giovane moglie di un imprenditore giorgiano, questo qua essendo giorgiano sangue caldo diciamo giorgiani, ceceni, daguestani possono essere paragonati alle persone del sud nostre gente molto passionevole, passionale, molto calda e anche irascibile quindi questo giorgiano a quanto pare ha addescato dei killer per far fuori questo Nemtsov perché è andato a letto con sua moglie in effetti lì ci sono varie teorie della morte di Nemtsov a me è meno plausibile secondo me quella dell'omicidio di Putin perché è veramente una cosa ridicola a Putin uccidere Nemtsov non giovava, non dava nessun interesse anzi quindi Cara Mursa, questo personaggio come Cara Mursa che non rappresentava niente non rappresentava nessuno se non i servizi segreti inglesi e la politica della Gran Bretagna ovviamente in Russia era trattato come un povero scemo che sparava le sue bagianate nessuno lo ascoltava, improvvisamente cosa succede? che inizia la guerra, la Russia entra, fa quello che si chiama operazione militare speciale ma la guerra è iniziata molto prima nel 2014 quando in Ucraina c'è stato un cambio di regime anticostituzionale, sono arrivati al potere i nazionalisti, diciamo nazisti e hanno cominciato a sterminare la popolazione russofona sistematicamente mandando le squadracce, poi bombardando, uccidendo tutto quello che da noi la nostra stampa occidentale, il nostro mainstream occidentale ancora oggi cerca di nascondere ma comunque certe notizie trappellavano anche nei giornali che oggi cercano far finta di non aver mai pubblicato quei articoli ma anche Repubblica, anche Corriere della Sera tra 2014 e 2016 avevo pubblicato diversi articoli dove appunto parlava del pericolo del nazismo in Ucraina, del fatto che gli ucraini massacrano la gente del Donbass e così via e il Karamur Zagia a quell'epoca lì ha preso una posizione ovviamente molto pro-nazista essendo i britannici rappresentanti del sistema che ha portato al potere il nazismo in Ucraina insieme con gli Stati Uniti d'America, essendo britannici quelli che forniscono aiuto ai nazisti tramite la Nato e tutti i sistemi a disposizione della Nato, sistemi finanziari, economici e così via Karamur Zagia ovviamente ha cominciato a difendere quella parte lì Karamur Zagia, cari amici, rappresenta un classico tipo di intellettuale russo intellettuale stolto, intellettuale che crede di essere al di sopra dei sistemi sociali del paese nel quale è nato che crede di essere, come dire, oppositore in un paese dove il senso della sua opposizione non attacca a livello politico e il suo grave errore, grave errore di molti intellettuali russi che in qualche modo sono stati addescati dagli inglesi e il fatto che loro non capiscono che durante una guerra, cioè quando scatta una guerra veramente c'è una divisione purtroppo tra le due trincee e loro cercano ovviamente di rimanere nella trincea del nemico stando nel paese che contro questo nemico combatte e ovviamente per questo motivo poi quando finiscono in carcere si domandano ma come, ma noi, ma in realtà siamo oppositori ma noi vogliamo migliorare la Russia, ma perché ci avete messo in carcere? Questa gente semplicemente fa finta di non essere accorta che sta andando avanti un genocidio del popolo russo loro non si sono accorti che nel 2014 per otto anni nel Donbass c'è stata una guerra che ha minacciato e continua a minacciare la sicurezza della Russia stessa e ovviamente in questa situazione, questa mancanza della ampia visione di questa parte dell'intellettuale, dell'intelligenza russa ha sicuramente danneggiato la loro vita e molti lo hanno fatto ovviamente seguendo i motivi prettamente finanziari come ad esempio stesso Navalny Navalny è un prodotto finanziario dell'Occidente Navalny, pensate che quando ha cominciato a scendere in campo come un meccanismo di informazione lui non aveva ancora un orientamento lui girava ancora con i nazisti ad esempio Navalny ha partecipato a dei primi marce russe quando i nazisti derivanti dall'epoca di Yeltsin che sono stati coltivati in quell'epoca da vari oligarchi e nazionalisti russi avevano ancora il potere poi con l'arrivo di Putin una parte di loro è stata sfruttata dai servizi poi eliminata nei carceri l'altra parte è stata semplicemente eliminata alcuni sono dovuti scappare gli altri hanno cambiato improvvisamente hanno avuto una, come dire, illuminazione hanno cambiato il loro orientamento ovviamente a favore del sistema che governa la Russia e tutto questo è avvenuto perché perché il cambiamento che c'è stato nel paese ha portato le persone a cambio delle stabilità nella società Navalny è un prodotto che in quel periodo cercava il proprio assestamento lui cercava di vendersi a vari proprietari delle televisioni in Russia lui cercava di vendersi a vari miliardari oligarchi cosiddetti russi all'epoca quando Putin ha cominciato a stringere i bulloni agli oligarchi lui strezzava l'occhio a due o tre con quali inizialmente ha cominciato a collaborare poi dopo non è andata a buon fine poi improvvisamente lui è stato preso dalle occidentali che in lui hanno visto un ottimo strumento di destabilizzazione di un sistema putiniano e quindi hanno investito un sacco di soldi e improvvisamente Navalny appare dopo le manifestazioni insieme con i nazisti dopo tutte queste ambigue ambigue tentativi di trovare il proprio equilibrio lui appare come un personaggio che lotta contro la corruzione del governo russo contro la corruzione del sistema di Putin con un enorme budget per creare bellissimi film documentari con grande seguito sulle piattaforme occidentali con grande capacità di intervenire soprattutto nelle menti dei giovani insieme con lui, con Navalny ci sono stati tutto un gruppetto di personaggi tra quale era anche questo cara Mursa che era un giornalista cittadino inglese arrivato dall'Inghilterra che è stato addestrato in Inghilterra l'hanno insegnato in inglese come fare tutte queste compagnie propagandistiche in Russia infatti ha cominciato a lavorare su vari giornali in varie compagnie televisive dove non faceva altro che mandare sempre dei messaggi di destabilizzazione sociale in tutto questo bisogna dire che lui non è mai stato un politico quando lui è entrato a gamba attesa nella politica quando ha cominciato a fare tutte le sue come dire esperienze vicino a Boris Nemtsov che ha cercato di rifare un partito politico che non ha avuto praticamente nessun seguito in Russia lui si è discreditato come politico perché non era capace di mantenere un rapporto con l'elettorato con quel poco elettorato che avevano non era in grado di anche creare dei rapporti interni nel partito in effetti ha dovuto abbandonare ha fatto delle storie all'interno del movimento loro dove si litigava con tutti diceva la sua insomma era tutto presuntuoso quando è scoppiata la guerra lui ha fatto un errore molto grave perché ha cominciato a discreditare l'esercito russo e questa è una secondo me lui faceva questa cosa in buona fede ovvero lui credeva veramente in quello che diceva perché le informazioni che lui riceveva lui le riceveva non dai fonti in Russia ma queste informazioni arrivavano dai servizi britannici dei quali lui ovviamente si fidava e lui creava queste notizie all'interno della Russia notizie bomba che nel 99% dei casi non erano in nessun modo confermati dalla realtà come ad esempio le notizie voi ricordate le notizie dei campi di concentramento per i gay in Cicenia cioè una cosa mai esistita io tra l'altro all'epoca quando è uscita questa situazione io volevo scrivere un pezzo su un grande giornale qua in Italia io ancora collaboravo con alcuni giornali ancora credevo al giornalismo italiano e io ho cercato di scrivere su questa situazione quindi mi sono recato lì personalmente e ho fatto delle mie indagini abbastanza approfondite io non ho trovato non solo la conferma dell'esistenza di una tale tendenza io fisicamente non ho trovato i luoghi dei quali loro hanno parlato nei loro reportage cioè famosi campi di concentramento i prigioni che loro indicavano io andavo lì e non trovavo niente sono stato un mese dietro a quella storia mi sono abbastanza arrabbiato sono tornato qua in Italia mi sono distaccato totalmente da questa storia mi sono messo e ho scritto un libro di fiabe perché non volevo più occuparmi delle questioni giornalistiche perché il mondo nostro giornalistico ho capito che fa molto schifo qua in Italia inventano notizie da zero oppure si fidano di quelle che sono le notizie che arrivano dal reparto propagandistico dei vari servizi del vario mainstream angossassone così faceva anche Cara Mursa cioè lui prendeva le notizie da queste agenzie li pubblicava in Russia ovviamente in Russia però dopo un po' di tempo quando lui è stato interpellato diverse volte le hanno detto guarda che stai pubblicando una notizia che è palesemente falsa non è falsa perché io ho i miei diciamo i miei fonti che le mie fonti che mi dicono che è vera sì ma però se le tue fonti si trovano oltreoceano ti possono dire non so che asini volano in Russia ma noi siamo qua in Russia e noi sappiamo che gli asini qua non volano magari là a Dallas o a Washington oppure a Londra loro veramente volano e anche bene ma qua da noi no non funziona così e te lo diciamo fai attenzione perché stai facendo una cosa sbagliata Cara Mursa invece essendo convinto di avere ragione perché poi è una persona molto egocentrica è una persona molto come dire che si è creato attorno a sé questo mito lui si vedeva come un cavaliere che combatte contro il drago cattivo drago cattivo sistema putiniano e poi c'è lui Cara Mursa sul cavallo bianco che combatte il suo sistema e ovviamente lui non ha prestato attenzione ai segnali che le sono arrivati ci sono stati due tre processi nei quali lui è stato coinvolto proprio per aver diffuso l'informazione che ha diffamato l'esercito cioè lui non è stato condannato perché Putin si è arrabbiato con lui o perché lui parlava male di Putin perché in Russia puoi parlare male di Putin non succede niente però quando cominci a diffondere le informazioni false sulla questione dell'esercito nel momento soprattutto quando il tuo esercito è impegnato in un'operazione militare in una guerra dalla quale dipende dalla sopravvivenza di tutta la nazione è chiaro che alla fine rischi molto in effetti lui alla fine si è beccato 25 anni io dico 25 anni è andato anche bene perché negli Stati Uniti d'America per una roba del genere poteva anche beccare una sedia elettrica in alcuni stati oppure poteva beccare un ergastolo poteva finire per il resto della vita nel carcere in Russia io sono convinto che questi 25 anni poi diventeranno 15 poi farà alla fine 10 e poi forse lo scambieranno con qualcuno perché se gli inglesi vorranno salvarlo se lui secondo gli inglesi è un elemento indispensabile anche se io non credo che così fosse perché è uno abbastanza che si è screditato abbastanza gli inglesi anche avrebbero potuto scambiarlo con qualcuno così sarà libero potrà vivere in Inghilterra a godere tutti quei milioni che si è fatto sgobbando a Mosca per i servizi britannici e forse si potrà anche fare una vita là in occidente che veramente del quale a mio avviso fa totalmente parte perché lui non è una persona russa perché non ha mai capito il senso di ciò che sta avvenendo in Russia un intellettuale di una persona che si attinge da intellettuale che vive da intellettuale che vuole rappresentare se stesso nella società che si pone nella società come un intellettuale e che non capisce neanche minimamente il senso dei cambiamenti epocali del proprio paese è una persona fallita quindi non ha alcun senso di vivere in questo paese deve trasferirsi andare via andare oltre andare nella società la quale ha sempre desiderato la quale ha sempre desiderato di far parte per la società anglosassone per cui penso che farà colchiano di carcere poi vediamo cosa gli succede comunque è sempre una cosa triste quando una persona del genere finisce nel carcere ma qua vorrei condividere con voi un ragionamento particolare dedicato al senso dei certi oppositori liberali che ci sono in Russia il grande problema di queste persone che loro non comprendono una cosa importante che durante il pericolo la società russa durante pericolo esterno la società russa si compatta all'interno del proprio paese e come l'elemento catalizzatore usa un sentimento di appartenenza molto forte quello quello che è successo in Russia dopo il 2014 in Ucraina con colpo di stato il 2014 i russi hanno capito che questa è la barriera che ormai anglosassoni hanno attraversato ci sarà una guerra la gran parte dei russi già in quel momento lì hanno cominciato a chiedere a Putin un intervento diretto in Ucraina lui per otto anni comunque ha cercato di resistere a queste idee ha cercato di allontanare in tutti i modi possibile la guerra alla fine comunque la guerra è scoppiata e lui è entrato l'anno scorso ha fatto questa questa decisione veramente terribile ma per lui e per la sua nazione una decisione ormai alla quale erano costretti e i russi in una situazione del genere si compattono e quindi molti intellettuali oppositori non si sentono parte del popolo russo perché quando ancora oggi mi capita di parlare con certi personaggi che si reputano oppositori che si reputano liberali la prima cosa che le dico a loro è che guardate cari amici io avevo 12 anni quando nel mio paese Transnistria appena dopo il crollo dell'unione sovietica sono arrivati tutte quelle forze tutti quei nazionalisti tutti quei nazisti che la Nato e gli anglosassoni già allevavano dall'inizio degli anni 80 nei paesi circostanti loro sono arrivati per ammazzarci fisicamente hanno cominciato a attuare la pulizia etnica e all'epoca mi ricordo che non c'era più la nessuna divisione nella nostra società quando noi siamo diventati carne da macello tutti venivamo ammazzati allo stesso modo chi aveva simpatie per l'occidente chi aveva simpatie per l'unione sovietica chi era comunista di vecchia fede chi invece amava la democrazia e sosteneva all'epoca presidente russo Yeltsin oppure i suoi simili quando sono arrivati i nazisti a farci fuori ci facevano fuori tutti ugualmente e questa cosa non hanno mai capito questi intellettuali russi questi oppositori russi che indipendentemente dalla loro opposizione antiputiniana o liberista o pro occidentale loro comunque fanno parte di una società che il sistema anglosassone ha condannato allo sterminio e questa cosa rende queste persone criminali soprattutto nei confronti di se stessi perché prime primi individui che loro condannano allo sterminio sono loro stessi perché quando un missile che lanciano i nazisti un missile I-Mars che i nazisti lanciano nel Donbass quello cade per terra esplode quando lui si trova nel volo e si avvicina diciamo al mercato dove ci sono le persone che comprano le cose come qualche settimana fa come sapete è esploso l'ennesimo missile americano del sistema annunciato del sistema I-Mars sul mercato nel Donbass sono morte le persone quando questo missile si avvicinava non è che lui si è fermato per lo cari signori scusatemi io sono missile sono qua per distruggervi per cortesia chi è di voi ha delle preferenze liberali chi è di voi sostiene Stati Uniti d'America per cortesia allontanatevi perché non vorrei farvi danno io voglio colpire solo quelli che sostengono Putin solo cattivi putiniani solo cattivi russofili russofoni e così via no cari amici l'Occidente l'anglosassone uccide tutti i russi a prescindere dalla loro posizione politica dalla loro visione quando loro si trovano nelle zone dove l'Occidente ha deciso di fare la guerra dove la Nato ha mosso la sua macchina militare muoiono tutti io questa cosa l'ho capito a 12 anni l'ho visto con i miei occhi e io non ho illusioni da quel momento io so in che mondo vivo che cosa faccio in che società abito io non ho problemi mentre la gran parte dell'intellettuale quei pseudo intellettuali chiamiamoli così che in Russia si chiamano con si definiscono con queste parole grosse parole oppositore o così via loro non hanno mai compreso questa cosa loro non hanno mai compreso che loro sono condannati comunque in quanto russi loro non sono mai sentiti parte del popolo che è stato condannato solo perché c'è un sistema oligarchico internazionale che vuole attraverso lo sterminio attraverso il genocidio ripetendo quello che nella storia è già successo dominare quella terra e qua io spesso anche mi capita di parlare con alcune persone che mi dicono no io sono atlantista convinto io sono contro la minaccia russa perché russi voi siete sempre lì a minacciare la stabilità sempre lì a puntare le armi cari amici i russi non hanno mai invaso ad esempio l'Italia mai i russi non sono mai mossi nella loro storia con le armi contro gli italiani l'Italia ha tentato di invadere la Russia tre volte guerra di Crimea subito dopo la rivoluzione bolshevica all'interno dell'Antanta e poi la seconda guerra mondiale insieme con Hitler dove è stato provocato un trauma che ancora oggi il popolo russo porta nel DNA tra 26 e 30 milioni di cittadini sovietici uccisi non sono scherzi è una cosa che tutti noi ricordiamo tutti quelli che sono stati educati cresciuti educati in Unione Sovietica a prescindere dalle nostre posizioni idee di oggi noi tutti portiamo quella verità storica dentro il nostro DNA noi ricordiamo che cos'era l'invasione nazista e gli italiani c'erano e oggi io qua sento la russofobia e questi ragionamenti veramente fuori qualsiasi logica cattivi russi vogliono invaderci ma quando ma chi se siete sempre voi che avete invaso i russi non hanno mai invaso i russi si sono dovuti solo difendersi comunque questa è una situazione ovviamente storica che anche presa così come adesso ho preso io in maniera un po' provocante non può essere esposta così io mi rendo conto e scuso però è una giusta provocazione che bisogna fare perché in grande linea è così però se vogliamo sicuramente fare ragionare sulla storia dobbiamo farlo in maniera molto precisa prendendo periodi e così via però in grande linea è questa la situazione i liberali russi non hanno mai capito che fanno parte di una società loro sono sempre comportati come se fossero al di sopra di quella che è la società io rispetto quando una persona quando un individuo non vuole appoggiarsi a un ideologia anche a me non piacciono ideologie io credo di essere al di fuori delle ideologie mi piace avere la mia opinione io rispetto chi non vuole stare nelle trincee ideologiche durante un conflitto durante una guerra va benissimo stare al di sopra e meglio questo lo fanno veri intellettuali però quando durante un conflitto certi individui si dissociano dalla società della quale fanno parte per motivi etnici per il fatto della nascita e cominciano a tifare e svolgere le attività per gli interessi delle forze che distruggono la loro società e credono che questo è essere liberi credono che questo vuol dire fare opposizione a mio avviso queste persone sono totalmente stolti e non comprendono il senso di ciò che sta avvenendo né all'interno del loro paese né all'esterno quindi Cara Mursa e molti altri oppositori tra virgolette in Russia che in questo momento sono trattati come i nemici in effetti si comportano da nemici e in questo momento la società russa che si è consolidata per l'ennesima volta attorno al proprio leader nel bene e nel male io lo dico con un certo rammarico perché non è bello un momento del genere cioè non è non è bello quando una società diventa monolitica vuol dire che questa società di nuovo sta attraversando un periodo di trauma di nuovo ci saranno generazioni che porteranno nel proprio DNA il segno di questo trauma quindi io lo dico con veramente con il dolore nel mio cuore però è la realtà questa società monolitica di oggi in cui si trasforma la Russia e una reazione a quello che arriva per l'ennesima volta dall'Occidente dall'oligarchia anglosassone dalle decisioni che prendono i poteri occidentali e purtroppo in queste situazioni personaggi come Cara Mursa e molti altri verranno trattati come piccoli grannelli di sabbia che finiscono schiacciati tra grandi enormi meccanismi di un sistema enorme sistema globale alcuni forse rimarranno intatti gli altri saranno trasformati nella polvere purtroppo comunque è la loro decisione grazie cari amici per essere stati qui con me perdonatemi per dilungamenti però io ci tengo sempre a approfondire parecchio i miei ragionamenti perché mi piace portare la logica fino a un punto in cui tutti possono capire e comprendere quello che io voglio dire quello che io penso nei minimi dettagli per evitare le incomprensioni grazie di nuovo e vi mando un forte abbraccio grazie